Salve a tutti! Io mi chiamo Alessandro e oggi mi mostrerò tutta la mia vita. Se vi piace questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale e mettete il pollice. Ok, iniziamo la nostra pittura. Ero un giovane come tutti gli altri e volevo prendere i soldi. Dove ti prendo i soldi che la banca è chiusa? Uffa! Conosco qualche altra parte che mi farà prendere i soldi? Sì, se la conosco è di là! Aspetta, ora ci vuole un viaggio lungo. Ma chi se ne frega del viaggio lungo? Io vado a prendere i soldi! Sì, lo so, sapientone! Aspetta, se non tocca la pena c'è uno saltello. Tu ascondo il rito per un posto ogni volta che ti trasferisci dal pieno per me. Però mica ce la fare tanta strada, giusto? Non c'è nessuno che mi rapesca. Altrimenti io poi mi arrabbio. E se mi arrabbio cercano i vostri. Ok. Sono quasi! Sono quasi arrivato! Ce la posso fare! Ce la posso fare! Sì! 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 Ora c'è l'altra versione di quello! E... Eccolo la banca! Dove prendere i soldi! Allora... Vediamo un po'. Voglio... Ehm... Cinque... Un centesimo... E un euro! Lo so, cosa sai, vero? Lo so, mi sono sbagliato! Ho sta poco! Scusa, eh! Eh! Ho proprio... Che succede? Aiuto! 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 Io sto per essere il mio dito! Sto per essere il mio dito! No! 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 aah aah Oh, ah, ah, ah Ah, grazie Ma io sto cercando la banca Mi puoi aiutare a ritornare alla banca? Ah, grazie Questa è la mia storia Ora lui mi aiuterà ad aiutare a tornare sulla banca Avete sentito? È finita brutta Mi sono fatto mare a chiamare Però nonostante questo Voglio continuare Chissà che cosa ci aspetterà Ciao Andiamo Secondo voi ragazzi È la strada giusta O è la strada sbagliata Perché così mi renderai conto E fermerei La strada No Fatemi salire Mi sto arrabbiando Mi sto arrabbiando Ce l'ho fatta Un pappagallo E' un canguro Il canguro senti nel tefroni, vero? Vero ragazzi? Chiedo come fare Ma fatti meglio